Vittoria sul finale di tempo, due gol, alla fine l'arrembaggio ha portato i suoi frutti. Sì, è stata una partita particolare, nel senso che siamo andati subito sotto dopo tre minuti su questo rilancio lungo, una lettura anche fatta bene dal mio difensore, però purtroppo c'è stato quel malinteso con il portiere, abbiamo subito gol e niente. Poi secondo me è stata una partita dove la mia squadra, io penso che abbia creato 15 palle e gol, sembrava una partita stregata, poi inizio secondo tempo è arrivato il 2-0 sul calcio d'angolo e da lì sembrava una partita chiusa, però devo dire che c'è stata una reazione veramente importante della mia squadra, si è messa lì, ha fatto gol 2-1 e ci ha creduto fino al 97esimo e giustamente secondo me ha vinto. È stata, possiamo dire, una grande prova di carattere perché questo Francavilla, come ne stavi dicendo, ha provato tante volte e non ci riusciva, poi però invece ci ha creduto fino alla fine, segno che questa squadra ha carattere e voglia di stare nei play-off. Sicuramente, lo ha dimostrato oggi, perché comunque sul 2-1 dopo tutte quelle occasioni comunque succedeva sempre qualcosina lì davanti alla porta che la palla non entrava, sembrava quasi stregata, però poi siamo stati bravi, abbiamo fatto il 2-pari, non sono le 2-pari, non siamo accontentati, siamo andati alla ricerca anche del terzo gol che secondo me giustamente abbiamo fatto e ci ha portato a questa vittoria importante.